Vigliaturo L'inesauribile analisi di colori e forme, sempre plasmata e con sapiente maestria, permette di cogliere nei suoi lavori il segno di un confronto costante, da cui escono vittoriose purezza cromatica ed espressività della materia. Le sue opere in vetro sono capaci di mettere in luce la più autentica essenza di un materiale che affonda le sue radici nella più remota antichità. Definito da Taluni Homo Faber, per l'irrinunciabile artigianalità del suo lavoro, idea, interpreta e vive le sue opere come in un rapporto simbolico tra strattezza e laboriosità, tra coscienza e capacità manuale. Unico artista testimonial dei ventesimi giochi olimpici invernali e dei noni giochi paralimpici di Torino, Silvio Vigliaturo porta l'arte italiana in un inesauribile viaggio nel mondo esponendo in Spagna, Taiwan, Hong Kong, Svezia, Lettonia e molti altri paesi. Per rendergli onore, il suo paese natale, Acri, gli ha dedicato il MACA, museo civico d'arte contemporanea Silvio Vigliaturo, ospitato nel principesco palazzo dei San Severino.